ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi ho deciso di fare un video in cui vi mostrerò qualcosa di cartoleria io adoro tutto ciò che mi permette di essere creativa e di dare sfogo alla mia fantasia inoltre ho deciso di cambiare un po' genere fotografico sulla mia galleria instagram quella privata e ho già pubblicato una fotografia che un po' spezza tutto lo stile precedente allora quello che sono andata a fare è stato ritagliare questi pezzettini di cartoncino è un cartoncino acquarellabile e non si nota però è tutto ruvido ha degli avvallamenti che lo rendono idoneo proprio all'acquarello e quindi sono andata a ritagliare questi pezzettini di cartoncino con una forma di nuvola e poi con questo scotch decolorato che dovrebbe simulare i colori di un arcobaleno sono andata a fare questo e quindi è uscito qualcosa del genere ovviamente io la fotografia ieri l'avevo già fatta più o meno ho fatto qualcosa così con le nuvole e la fotografia è uscita quadrata ed ho fatto questa cosa qui l'effetto non era male e mi era venuto anche in mente di fare qualcosa ma perché l'ho visto con questi nostri adesivi tipo un nastro che esce da sotto la nuvola quindi tanti nastri di fila che escono da sotto la nuvola come per dire una pioggia di effetti particolari ho anche in mente di fare altre cose e piano piano cercherò di realizzarli e magari pubblicherò sul mio profilo una foto creativa del genere e una foto invece classica tipo fotografie di paesaggi, del tramonto, di particolari quindi credo che mi divertirò di più anche perché ultimamente per impegno ho dovuto abbandonare il mio profilo instagram e per riprenderlo ho deciso di dare una svolta quindi un piccolo cambiamento credo faccia bene sia a me che sono stimolata maggiormente a creare e a coltivarlo di più e sia a chi mi segue perché creerò delle novità quindi ci saranno novità e quindi vi annoierete meno o comunque ci sarà la curiosità di sapere che cosa pubblicherò e questo video credo che non sarà molto lungo perché ho davvero poco tempo però vi invito a seguirmi su instagram e a commentare scrivendomi qualcosa con vostro parere è nulla farò adesso faccio un po' di dumping ne approfitto per approfitto di queste onde lunghe ieri ho dovuto incollare questo fa troppo rumore ho dovuto incollare un vaso adesso ve lo mostro ecco e quindi mi sono incollata le dita con questo attacca che tra le altre cose avevo messo una vite perché avevo perso il tappo però la vite si è incollata e quindi ho dovuto bucare con un ago il tappetto non fa neanche un bel suono questo quando faccio i video improvvisati ecco il tavolo il tavolo fa un suono migliore ecco comunque io adoro il suono della carta allora questo colore è di un rosa molto acceso rosa confetto acceso però nel video è molto spiadito e anche perché le luci che ho acquistato qualche giorno fa e creano una ma cioè nel momento in cui faccio un video vibrano io adesso mi sto anche stancando a tenere la mano con la mano e lo smartphone vorrei almeno arrivare a 10 minuti di video anche se beh non è facile adesso provo a cambiare mano ecco infatti mi si sono adesso che mi guardo il dito mi è successo una cosa cioè mi è successo che mi sia spezzata l'unio però mi dispiaceva tagliarla quindi ho incollato su una cartina con l'altro che ovviamente resto in tema ecco io sto facendo un po' di confusione qui di casini perché non riesco più a a tenere la fotocamera però devo assolutamente comprarmi un treppiedi però adesso come adesso ho già comprato lo smartphone nuovo le lampade mi meserebbe allora io ho provato a vedere di fare di arrivare a 10 minuti però non riesco più mi si è stancata la mano e non riesco a fare nulla e sto riprendendo un po' a caso qui la scrivania queste cosette qua e fatemi sapere un po' se l'idea delle foto creative può essere carina su instagram e magari nell'anteprima vi farò vedere vi mostrerò la foto come è uscita comunque andate su instagram e vedetela e fatemi sapere anzi vi chiedo andate sullo mio profilo instagram e sotto la foto commentate con il simbolo di un arcopaleno così capirò che siete che siete passati da lì io adesso vi saluto ecco sono arrivati ai 10 minuti sono contenta e vi do appuntamento al prossimo video ciao